Andrea Damante è stato uno degli ospiti nel salotto di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso è tornata in grande stile nel pomeriggio di Canale 5 e tra un'intervista e l'altra ha intervistato anche l'ex tronista di Maria De Filippi. Il giovane Damante ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua relazione con la fidanzata Giulia De Lellis e sul difficile momento vissuto tra i due. «Abbiamo attraversato un periodo un po' così, ma qualche litigata in più ci è servita», ha confessato Andrea. «Sembra che tra la coppia ci siano state delle incomprensioni dovute soprattutto al lavoro intenso di entrambi che li porta lontani per molto tempo. È stato un anno intenso e faticoso per via dei nostri lavori», continua Damante e da Barbara D'Urso. «La coppia ha vissuto un momento di crisi, ma fortunatamente per loro è stato solo un brutto momento passeggero». «Le incomprensioni li hanno aiutati ad unirsi ancora di più e ora i due sono più innamorati che mai. Tuttavia la coppia sta per dividersi ancora una volta. Giulia De Lellis è stata scelta come uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La nuova occasione professionale porterà la coppia lontana per 70 giorni, nella migliore delle ipotesi in cui Giulia arriverà in finale. Ma il DJ non starà di certo con le mani in mano, è infatti stato selezionato come attore per recitare nella nuova stagione di Don Matteo». Per restare aggiornato sul Gossip iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook. Grazie. Grazie.